Si potrà procedere a realizzare gli allacci delle utenze private alla rete del metano senza alcun aggravio per le tasche dei cittadini di Capaccio Pestum. E' quanto disposto dal decreto regionale emesso dopo l'incontro a Palazzo Santa Lucia fra il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo, e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. La prima tranche di finanziamento è di 430.000 euro, come anticipo sui 530 assegnati complessivamente dalla regione Campania nella cornice del piano progettuale legato alla metanizzazione del Cilento. Il finanziamento in questione rientra in un accordo di programma fra Regione, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno, a valle di un patto per il sud strutturato per dotare anche i più piccoli comuni delle infrastrutture necessarie per la crescita complessiva delle cosiddette aree vaste.